Ecco questo è il breggio oggi, guardate come si presenta una imponente fioritura di alghe, una buona parte del corso dell'acqua come vedete quasi melmoso con questa fioritura verde vedete che dà una colorazione davvero particolarissimo al fiume, siamo nella zona di Tavernola, tra Tavernola e Cernobbio buona parte del fiume, ce l'hanno segnalato i nostri lettori come vedete si presenta in queste condizioni